Allora, siamo entrati in questo argomento, divento un professionista, come faccio, quali sono i luoghi comuni, quali sono le domande che spesso mi pongo, ci malponiamo, adesso entriamo un po' nel vivo del discorso, cioè io come faccio a diventare un professionista secondo me, ed è quello che io cerco di trasmettere alle persone che mi chiedono un consiglio, che possono essere qualche allievo qui della scuola che vuole cercare di avere quel risultato come obiettivo, cioè, anzi come obiettivo quel risultato, non lo so come, si dice comunque che cerca di diventare un batterista professionista, e quindi il mio consiglio, che in verità non è un consiglio che do perché io mi sento arrivato e sono il più figo del mondo, no, sono delle cose che io in verità prima di tutto dico a me stesso, per essere una persona che vive di musica, che lavora di musica, è fondamentale essere professionali, ancora prima di pensare di essere dei professionisti, perché professionista, come abbiamo detto prima, significa io vivo, mangio, pago le bollette attraverso il mio lavoro, anzi la mia professione, che è quello di suonare la batteria, questo è molto in larga cosa, poi suonare la batteria significa insegnare, registrare, fare dei tour, collaborare, fare cose artistiche, scrivere un disco, dico per dire, no, quindi tutte delle attività che attraverso il fatto che uno suona la batteria è dentro a determinate cose, crea determinate cose, e quindi poi trae un guadagno e ci campa con quella cosa, ci vive, però come faccio a diventare così? Il problema è che uno vuole diventare un professionista spesso saltando il passaggio più importante, cioè diventare professionale, secondo me questa è una importante chiave di volta, ne parlo spesso con i ragazzi qui a Drumstart, e la cosa è proprio questa, cioè se io divento professionale e capisco come faccio a diventare professionale, che sarebbe l'insieme di tutto quello che abbiamo detto anche nei video precedenti, cioè una persona che capisce i meccanismi, che si sa gestire con le persone, che sa essere una risorsa valida, cioè una persona che ti porta un contributo non solo tecnico, cioè dal punto di vista proprio del suonare lo strumento, ma anche artistico, musicale, eccetera, eccetera, allora quando io divento professionale posso cominciare a pensare di diventare un professionista, perché ne vedo subito il risultato, mi sono comportato bene, sono uno che arriva in orario alle prove, che chiede il giusto a livello economico, che sa capire quando è il momento di chiedere una certa cifra, e quando chiedere un'altra cifra, o quando lavorare gratis, perché in verità l'equilibrio di quella cosa genererà un certo risultato, oppure saper capire che bisogna essere, che ne so, che invece di mettere in mostra se stessi bisogna cercare, cosa molto importante, di mettere il progetto per il quale si sta lavorando al centro, e quindi contribuire al risultato massimo artistico del progetto, e non di far vedere quanto siamo bravi noi. Questi sono quei passaggi fondamentali che secondo me ci portano a diventare professionali. Una volta che diventi professionale, allora probabilmente, credo, spero, lo dico a me stesso, potrò essere un professionista, ok? Quindi è una riflessione che faccio su me stesso, io prima devo essere professionale, e la conseguenza dell'essere professionale, con molta probabilità, mi porterà ad essere un professionista, ok? Quindi, una volta che capiamo questa cosa, allora andiamo a vedere quali sono tutte quelle cose importanti che ci fanno diventare professionali. Quindi, se sei un giovane batterista, io dico giovane perché io non mi sento vecchio, però comunque ho quasi 35 anni, quindi in verità ho una certa, come si dice a Roma, e sulla base delle migliaia di errori che io ho fatto, e che continuo a fare, perché ogni giorno faccio cazzate micidiali, mi rendo conto che tutti questi errori contribuiscono al mio non essere professionale, ok? Che non vuol dire suonare bene e basta, ma non essere professionale significa fare una serie di errori che poi si ripercuotono nel tuo lavoro, nella gestione del tuo lavoro, con gli altri soprattutto, perché lavoro è quando tu, abbiamo detto, porti una prestazione, cioè dai, offri un servizio, una prestazione artistica e quella prestazione artistica è riconosciuta con un valore, ok, economico, in soldi, che ti permette poi di mangiarci, ok? Quindi, mi raccomando, il problema non è essere un professionista, ma è prima di tutto diventare professionale. Questo di essere professionale ti porta ad essere un professionista, cioè a guadagnare con la tua professionalità. Questo è il passaggio, è il nodo centrale, secondo me. Sembra una cosa scontata, ragazzi, però in verità, secondo me, qua c'è proprio il bivio. Cioè, quando tu hai capito come devi, piano piano, modificare i tuoi atteggiamenti, modificare il tuo modo di fare per essere una risorsa, un arricchimento per chi ti chiamerà a lavorare con lui, allora per te il lavoro ci sarà sempre, ok? Cosa che invece tantissime persone non hanno, cioè questo chip nella mente non ce l'hanno, e quindi magari sono tecnicamente dei batteristi eccezionali, ma non riescono a lavorare. Perché? Perché fondamentalmente il mondo del lavoro non è il mondo della tecnica, è il mondo del lavoro, e quindi gli equilibri non sono solo quelli che sono bravissimi a suonare, almeno che tu non riesca ad avere un tuo pubblico che paga il biglietto per guardare te che fai delle cose fine di mondo alla batteria, ok? Cosa abbastanza difficile al giorno d'oggi, perché ci sono veramente dei fenomeni pazzeschi che ovviamente sono seguiti in tutto il mondo, su YouTube, su Instagram, su Facebook, per le loro celeberrime qualità tecniche, ok? E a fare i giocolieri, ci pensano già loro a fare questi numeri da circo, che ovviamente se fatti con estrema dovizia di particolari, con estrema tecnica, insomma con una bravura fuori dal comune, gli permettono anche di lavorare. Ma se poi vai a vedere all'osso, quando questi mega fenomeni vanno a suonare con l'artista importante, il cantante, eccetera, fanno le cose di base, ma portano la loro professionalità. Quindi importantissimo, non pensare che se sei bravo tecnicamente, allora qualcuno ti chiama, quindi diventi un professionista. No! Pensa che devi diventare professionale, e la tua professionalità ti farà vivere di musica, quindi sarai un professionista della musica. Ecco, questo settiamo, io lo dico a me stesso, devo settare ogni giorno il mio cervello su questa cosa, e probabilmente poi i risultati arrivano. Nel prossimo video andiamo a vedere quali sono le cose fondamentali per essere una persona professionale, per essere un batterista professionale. Grazie a tutti! Grazie a tutti!